buonasera buonasera a tutte e a tutti siamo qui in diretta con il circolo dei lettori di torino ma in realtà la diretta ne parlavamo off the records al vantaggio di rivolgersi non solo agli ascoltatori torinesi ma un po a chiunque ci sta sentendo per cui benvenute e benvenuti siamo qua con con i giabascego per parlare del suo ultimo libro e giabascego forse non ha bisogno di troppe presentazioni ma la presento brevemente è una scrittrice di roma tra i suoi ultimi libri poi ci dirà lei perché ho scelto questi due oltre babilonia uscito con donzelli nel 2008 e adua uscito con giunti nel 2015 perché vi anticipo lei considera questo suo ultimo libro la linea del colore uscito poche settimane fa per bonpiani il terzo di una sorta di trilogia della quale magari ci parlerà e la linea del colore è un romanzo bellissimo innanzitutto lo dico subito bugare ogni dubbio a me è piaciuto tantissimo me lo sono divorato sui due piani su cui è strutturato cioè il passato il presente è una storia che intreccia letteralmente una vicenda ambientata nella seconda metà dell'ottocento che a sua volta è costruita giocando con i tempi è una vicenda ambientata di fatto nel presente l'ultimo l'ultimo episodio è di fine 2019 per cui poche settimane prima dell'uscita dell'uscita del libro è un libro come ijaba stessa scrive nel suo making of che è un apparato finale molto interessante su come è stato costruito il libro credo che avremo modo di parlare anche di questo è un libro di luoghi ne ho individuati alcuni ma ci sarebbe da soffermarsi e lo faremo gli stati uniti innanzitutto dove prende le mosse la parte relativa al passato l'italia dove arriva la parte relativa al passato e dove parte quella relativa al presente la somalia che ha un legame molto stretto con la parte relativa al presente e poi anche vari altri luoghi per esempio l'inghilterra mi verrebbe da dire l'europa che ci sia un dialogo tra l'europa e il resto del mondo e poi appunto dovendo generalizzare so che ijaba non ama troppo che si parli di africa in generale perché l'africa è un mondo complesso però c'è questa questa africa che ritorna sia nella parte legata al passato che nella parte legata al presente non vi parlo troppo diciamo del plot della trama del libro perché ijaba svelerà quello che vorrà senza senza appunto rovinare la lettura ai molti e le molte che spero compreranno e leggeranno il libro però c'è da dire che che appunto è la storia in particolare di due donne in realtà questo libro ci ritornerò su è una storia di donne prevalentemente di donne ma con due innegabili protagoniste la prima delle quali poi ti chiederò di parlarci la prima la fanu è una donna che per metà nativa americana per metà discendente di un haitiano per cui diciamo discendente dalla dalla tratta degli schiavi per cui a queste due appartenenze queste due identità come si dice oggi molto forti e molto rifiutate molto negate alle quali è negata negato il diritto di cittadinanza negli stati uniti dell'ottocento è un personaggio ponte come come ijaba stessa scrive che di fatto diventa europea dopo un viaggio molto particolare molto determinato mi verrebbe da dire e poi c'è lei la che la donna del presente un'afrodiscendente che vive a roma romana per chi conosce ijaba ascego e la domanda è d'obbligo credo che te l'abbiano già fatta però te la farò anch'io ed è la prima delle due domande e quanto di jaba c'è in leila nel senso che oltre alla voce che io riconosco seguendo ijaba sui social su internazionale conoscendola di persona credo che ci siano anche molti molti tratti biografici di leila che sono neanche troppo velatamente tratti autobiografici di jaba ma questa è appunto la prima domanda sicuramente un po scontata e la seconda domanda con la quale ti darei la parola è relativa all'altra protagonista quella diciamo del romanzo storico che che il nucleo forte del tuo libro è appunto la fanu che come come tu stessa racconti nel making of e come fosse una crasi tra due personaggi storici realmente esistiti sarah ed ed monia e prima di darti la parola però vorrei citare due micro passaggi riferito alla parte al presente ci ho riferito a lei la barra forse te forse te perché mi hanno molto colpito appunto ho ritrovato te e ti volevo chiedere quanto c'è di te qua dentro questa è lei la che parla che scrive dice più la conoscevo e più mi accorgevo che in fondo essere di origine somala in italia non era così dissimile di essere di santo domingo negli stati uniti riferendosi appunto alla metà haitiana di la fanu e l'altra citazione che vorrei fare prima di dare la parola ai jabba e sempre sempre dal dal pezzo al presente al pezzo in cui parla in cui parla lei la che mette in atto questa questa lunga indagine sulla vita di la fanu e non solo in quel certo punto scopre qual è la sua missione qual è il suo futuro racconta racconta quale sarà la sua vita da da giovane futura giovane professionista e che diventerà una curatrice d'arte e dice io avrei dato al prossimo degli occhi nuovi per guardare il mondo che attraversavano ogni giorno lenti per capire il passato e per acchiappare il futuro io qua ho visto i jabba e e ti lascio subito la parola perché questa questa osservazione che voglio fare ho paura poi di dimenticarla per cui la dico subito che i jabba oltre a scrivere molto bene oltre a essere una donna che fa ricerche in maniera molto approfondita per cui questo libro che è intriso di storia una profondità davvero eccezionale è anche una donna molto generosa nel senso che a differenza di tanti di noi mette continuamente a disposizione il suo lavoro in corso sui suoi canali racconta le ricerche che sta facendo condivide immagini quadri testi recensioni articoli e credo che come dire tu abbia interiorizzato un concetto molto bello molto profondo e molto genuino di comunità in ricerca e per cui quando ho letto questa queste parole con cui il tuo personaggio lei la si descrive ho pensato veramente a te per cui ti lascio la parola chiedendoti appunto di descrivere lei la hijaba e la fanu e le due personaggi da cui alle quali ti sei ispirata allora buonasera a tutti a tutti quelli che ci stanno scrivendo adesso buonasera e grazie al circolo di lettori grazie a te carlo sono molto contenta di fare questo incontro anche se virtuale con te perché tutti occupi di storia di divulgazioni va nelle scuole fai un po no lo stesso lavoro che faccio io cioè di costruire ponti no ponti tra quello che uno sa e le nuove generazioni e e questo è quello che mi ha spinto a scrivere questo libro e di base volevo volevo raccontare due cose allora volevo raccontare sicuramente un'esperienza di viaggio e ci ritornerò e ma per quanto riguarda l'ela l'ela mi assomiglia ma non sono solo io c'è in questo libro il punto di vista di l'ela è un punto di vista fondamentale è il punto di vista che rende questa storia che apparentemente sembra afroamericana rende questa storia afro italiana perché appunto l'ela non parte che mi sono un po ispirata la mia amica l'ela il fusi che è una docente universitaria ma anche a me ma anche a tante altre donne come me perché siamo noi appartiniamo a si siamo figli di migranti le cosiddette seconde generazioni ci hanno etichettato in mille modi in questi anni etichettato ma siamo ancora in mancanza di diritti no non c'è il diritto della cittadinanza non soltanto la cittadinanza reale legale ma anche di riconoscimento della della nostra vita qui in italia come italiane e quindi ho voluto creare questo personaggio di lela che è un fronte ma che anche è una gioia e non è più giovane è una una figlia di migranti che ha un'età no eh che uno si scordano perché in italia quando si parla di figli di migranti pensano sempre giustamente ai bambini a ai giovanissimi nelle scuole però c'è tanta gente che ormai c'ha 50 anni e va verso i 60 tanta gente che ha i 40 anni che va verso i 50 quindi volevo dare eh proprio materialità a questa presenza eh di figli di migranti in questo paese quindi credo che lela sia un ritratto generazionale non solo mio è chiaro che poi gli ho dato dei tratti miei più che altro gli ho dato l'origine somala però per esempio i genitori di lela sono molto diversi nel libro dai dai miei genitori mio padre era un uomo politico il padre di lela invece un farmacista cioè mi sono ispirata anche altri un'altra tipologia di immigrazione eccetera un'immigrazione che soprattutto negli anni 70 80 era un'immigrazione collettiva no perché veramente erano scappati in tanti dal dal paese di origine e poi è soprattutto lo sguardo di lela che crea questo libro secondo me cioè almeno io così l'ho concepito perché per tutta la vita io ma tantissimi come me hanno guardato per avere dei modelli di riferimento all'America cioè noi neri italiani non avevamo i modelli di riferimento quindi dovevamo guardare agli Stati Uniti e soprattutto agli afroamericani la loro lotta le loro icone sono diventate le nostre icone no Marco Mix il diario di Marco Mix per me è stato un momento di rottura proprio cioè grandissimo con quello che mi era stato insegnato a scuola e quello che invece ho scoperto nel diario no ho capito che dovevo approfondire la mia storia dovevo prenderla in mano quindi a un certo punto però questo succede un po' a tutti gli afro italiani capisci che non sei afroamericano che sei qualcos'altro che forse devi sì guardare a quella storia e devi ringraziarla quella storia ma costruire la tua cioè e soprattutto scavare nella tua perché comunque gli afroamericani hanno avuto questo legame molto forte con la storia della schiavitù e noi afro italiane abbiamo molto forte la la storia coloniale no c'è questo comunque le cicatrici che ci portiamo addosso sono cicatrici coloniale e io penso sempre che schiavitù e colonialismo non sono mai finite ma sono solo evolute e quindi sono partite da questo nucleo centrale a questa idea centrale e la fanù è nata quasi magicamente perché effettivamente avevo scoperto all'inizio proprio prima ancora di pensare a questo libro avevo scoperto che due donne afroamericane reali della storia reale edmonia luis che era una scultrice e sarah park raymond che era un attivista militante però poi in italia è diventata ostetrica avevano vissuto a roma che già questo era una cosa incredibile due donne nere a metà ottocento a roma e sono andata a vedere i luoghi in cui avevano abitato via della frezza via quattro settembre tanti tanti luoghi e ho cominciato ad ossessionarmi perché poi la letteratura nasce dalle nostre ossessioni se non siamo ossessionati non scriviamo e quindi ho cominciato a costruire questa questa torta di nozze perché questo libro è un po come una torta di nozze è fatto o mille foglie è fatto veramente a strati in questo strato ci sono queste due donne reali però non volevo scrivere la loro biografia volevo fare qualcosa che mi che mi lasciasse libertà di aggiungere anche altro quindi ho inventato la fanù la fanù non è né edmonia né sarah anche se ha qualcosa di simile a edmonia e sarah la cosa simile è quello che tana easy coates grande pensatore afro americano chiama la paura di perdere il corpo che tutti i neri in qualche modo un qualsiasi tipo di galassia vivono hanno sperimentato cioè la paura di essere oggetto di violenza no e a sarah era successo di essere stata buttata un po come succede anche alla fanù dalle scale edmonia ha subito un'aggressione quindi l'aggressione in qualche modo era un momento costitutivo per capire che si doveva cambiare vita si doveva andare via evadere e quindi l'idea del viaggio no e da lì ho costruito un gran tour perché in effetti questo libro è dentro una cornice è molto ben precisa che quello del gran tour del viaggio in italia solo che non era non era come appunto canonicamente il viaggio dei nobili o dei borghesi era il viaggio in italia di una donna nera di una donna che per fare questo viaggio si è dovuta appoggiare alla benevolenza delle protettrici e comunque riesce riesce a farlo e quindi con questo concludo in questo libro c'è una strada ci sono tante sfumature di nero quindi le sfumature di lela e le sfumature di la fanù ma ci sono anche tante sfumature di bianco perché appunto le bianche in questo libro non sono tutte uguali chi ha più potere che ha più soldi che ha meno potere chi chi non ce la fa cioè è veramente ho voluto costruire personaggi bianche neri completi cioè che 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 non sono stereotipi no e che hanno tutti loro affanno loro affanno nella vita e su questo ci voglio tornare e soprattutto l'italia cioè questo è un romanzo profondamente italiano anche se i protagonisti apparentemente non lo sono perché l'italia al centro della narrazione è un personaggio c'è un'italia coloniale che vediamo all'inizio che però è l'italia che la fanù vede per ultima è l'italia appunto della della battaglia di dogali perché quando uno pensa al colonialismo pensa sempre al fascismo a mussolini a graziani che è purtroppo roba che c'è successa ahimè e però ecco mussolini non si è inventato niente mussolini ha ripreso dal 1911 e soprattutto dal 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 colonialismo ottocentesco quindi c'è quella quell'italia coloniale ma c'è anche l'italia sognata l'italia desiderata l'italia in qualche modo che quella del viaggio quella di che lei all'inizio la fanù conosce leggendo no succede anche a noi quando amiamo un paese il brasile lo prima letto letto george amado prima di andare in brasile lei legge corinna di madame destelle perché era un best seller all'epoca e io per per fare questo libro insomma ho letto anch'io tantissimo per proprio calarmi nell'atmosfera quindi c'è questa italia coloniale c'è l'italia sognata e poi c'è l'italia reale che è quella che vive l'ela e quella che lei vorrebbe cambiare e forse c'è anche un'altra italia quella della storia nera che spunta dai monumenti spunta dei quadri sì tra l'altro mi permetto in parte di dissentire nel senso che giustamente tu rivendichi la centralità dell'italia nel libro ma secondo me è veramente un libro globale l'abbiamo detto sì no nel senso che anche per chi si è connesso adesso ribadisco è un libro di luoghi in cui ci sono dei luoghi preponderanti che sono soprattutto gli stati uniti e l'italia e in seconda battuta la somalia l'inghilterra poi delle città in particolare roma e venezia però è veramente un libro che ti dà l'impressione giusta sacrosanta e per fortuna che tu l'hai scritto di vedere quel tratto di storia appunto la seconda metà dell'ottocento dagli occhi attraverso gli occhi degli esclusi dalla grande narrazione della storia cioè le donne gli afrodiscendenti e spesso come dire figure che racchiudono entrambi entrambi gli aspetti tra l'altro tu prima parlando della diversità delle di coloro che si credono bianchi per citare ancora tenezi cozza hai citato solo personaggi femminili e ribadisco per chi si è collegato adesso tra l'altro noto noto che 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 molti stanno scrivendo quel libro belli di molte molte che un libro bellissimo il più bel libro dell'anno e insomma al momento abbiamo solo commenti entusiasti poi se volete nel frattempo fare anche delle domande cerchiamo di di seguire anche anche gli ascoltatori appunto questo libro molto femminile c'è direi che c'è un personaggio maschile frederick che come dire quello quello che prende un po la scena e secondo me frederick perché ulisse ulisse fa un po la cornice mi verrebbe da dire ma non voglio fare fare spoiler come si usa dire però fondamentalmente un libro di donne è un libro appunto di discendenti della tratta e in generale che parla di colonialismo di schiavitù le due grandi ferite dell'età moderna contemporanea ancora come dici tu solo che hanno solo aggiornato il file che non sono affatto affatto svaniti ed è un libro al quale è una mia distorsione però si è tentati di dare tante etichette tu parlavi prima delle etichette allora ti provoco in maniera sicuramente un po naiv dicendoti invitandoti a a scegliere una serie di immagini per chi ci sta ascoltando per descrivere più che il libro la ricerca che ti ha portato al libro e mi riferisco questo a questo genere di immagini luoghi ne abbiamo parlato colori questo libro di colori non solo per il titolo ovviamente che viene appunto dal dal lato del dipingere ma anche perché c'è una continua attenzione ai colori dei luoghi della natura delle persone degli abiti e lo trovo estremamente delicato affascinante è un libro di arte eh che parla tanto di arte visiva e che parla tanto di libri come tutti i libri solidi e profondi sono a loro volta densi di libri eh è ovviamente un libro eh di storia eh un romanzo storico tuo nel making of dici a volte sono tentato di chiamarlo un fantasy all'ambientazione storica perché perché la fantasia ha giocato un ruolo ovviamente determinante però per cui ti chiederei di raccontare il percorso che ti ha portato al libro che ti ha portato dentro al libro attraverso eh magari un luogo un colore un'opera d'arte o comunque qualcosa o qualcosa di visivo è è è un è un evento storico che può essere un luogo eh non so Roma e Venezia però anche quindi più Roma però perché in realtà ho proprio seguito passo 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 eh le orme delle due donne reali Edmonia e Sara no? Eh Sara addirittura è morta a Roma e se uno va alla cattolico alla cimitero cattolico che vi consiglio ehm trova una targa di Sara oltretutto lì sono sepolticelle e Kitz Kitz che tra parentesi entra in questo romanzo eh Scelle pure entra in questo romanzo in un certo senso e ehm Gramsci e quindi quel quel luogo a me l'idea che lei è sepolta è stata sepolta lì insomma è stato molto forte e il colore è sicuramente il colore rosso perché in qualche modo io ho detto che questo libro è una trilogia no? In realtà è una trilogia dell'anima non è che sono capitoli dello stesso personaggio ma inoltre Babilonia che è uno dei miei vecchi libri la protagonista appunto non vedeva il rosso e e la fa non perdere i colori no? Per me per me i colori perdere i colori era un po' mh diciamo mh il segno della violenza coloniale no? E il segno di di qualcosa che ti è stato fatto al corpo e e questo questo il colore sicuramente poi mi hai chiesto eh il colore poi ti ho chiesto un un'opera d'arte un qualcosa di un'opera d'arte un'opera d'arte qui ne troverete tantissime e c'è la fontana di Marino dei quattro mori perché comunque è una storia di di Black Italy questa Black Italy esce fuori da da inquadri da da qualsiasi cosa veramente no? E se devo scegliere un'opera tra le tante sceglierei eh il miracolo della vera croce a rialto di Carpaccio eh che si trova alla galleria dell'Accademia Venezia perché al centro del quadro c'è un un gondogliere nero e questo gondogliere nero ci racconta un mondo che noi non non abbiamo nemmeno idea cioè io quando l'ho visto la prima volta sono rimasta lì a guardarlo ore non non ci credevo non non ci credevo assolutamente e lì e lui sta lì al centro di questa rialto brulicanti di affari di 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 navi c'è un cagnolino c'è c'è di tutto di più e al centro c'è questo questo gondogliere nero che ci racconta qualcosa che a scuola noi non abbiamo studiato e quindi sì è un romanzo di varie di varie cose cioè ho voluto mettere tante cose ma in modo spero lo diranno i lettori naturale c'è dentro una cornice comunque di romanzo ottocentesco perché io amo il romanzo ottocentesco questa è una cosa che forse si evince dalla lettura perché a parte che quando ero giovane ho fatto una un esame di letteratura spagnola con tutto l'ottocento spagnolo e l'ottocento spagnolo che dio non cioè non voglio offendere nessuno è un po' noioso quindi a un certo punto sono andata a cercarmi altri tipi di ottocento e mi sono imbattuta nella gran bretagna e in due in due in due autori in tre autori se devo pensarci una è Jane Austen una è Ray James e uno è poi la Edith Wharton e che secondo me in qualche modo non li ho letti per questo romanzo ma li ho letti vent'anni fa o e comunque li rileggo li rileggo spesso mi hanno dato un modo per entrare in quell'atmosfere e devo dirvi che io sono impazzita proprio letteralmente impazzita eh non soltanto a leggere le cronache del Grand Tour i romanzi del Grand Tour non solo Corinna ma penso anche a il Marvel Fauna di Hawthorne il fauno di marmo che è che all'epoca veniva usato quasi come guida turistica ma la cosa mi ha fatto impazzire di più sono stati i costumi perché da 1860 1870 la moda cambiava cioè io dovevo vestire i miei personaggi quindi dovevo capire come erano vestiti e quella è stata la cosa più difficile in assoluto cioè riuscire a entrare dentro la moda del tempo studiarla perché poi le descrizioni sembrano no a volte semplice quando uno le fa in realtà c'è tanto 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 studio dietro no ma infatti guarda mi ha dato la palla al bazza nel senso che prima l'ho accennato nel presentarti adesso lo ribadisco c'è il lavoro di ricerca che c'è dietro romanzo storico si vede se sei un po del mestiere lo vedi e e in effetti chi l'ha già letto apprezzato l'ha già notato chi lo leggerà lo vedrà c'è e non sei mai di da scalica non c'è una ricerca maniacale del dettaglio come dire a certificare il lavoro di ricerca ma è tutto molto molto fluido molto ben costruito a mio avviso che appunto dai vestiti ai luoghi come dire i personaggi che si muovono nei luoghi anche i dialoghi nel senso che poi c'è tutto il tema del verosimile che aprirebbe un dibattito per altre dieci puntate però eh c'è stato un gran lavoro e tra l'altro mi invito poi a leggere le venti pagine eh di making off in cui ci sono anche dei ringraziamenti a gente come Alessandro Portelli come Nicola Labanca insomma a grandi studiosi eh l'uno eh delle americhe e l'altro del colonismo italiano che 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 hanno anche vidimato credo eh il lavoro di Giaba e per cui assolutamente questa cosa si vede hai fatto benissimo a sottolinearla eh mi attaccherei al al commento di Valentina Longieri che dice la scoperta della presenza storica nera in Italia la sua rimozione la ricerca dei modelli afro italiani le tracce artistiche sono a mio parere la ricchezza e l'originità del libro eh verissimo eh è importante sottolinearlo eh è un po' quello che Giaba stava dicendo adesso nel senso che eh tutti sappiamo che che la storia la conosciamo per come ci viene raccontata questa è un'obvietà ma 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 l'abbiamo interiorizzata senza magari troppo rifletterci su allora Giaba è da diversi anni ormai che eh conduce la sua personale e non solitaria battaglia eh per ehm far riemergere eh le tracce della presenza eh nera in in Italia e in Europa a me viene sempre in mente l'immagine di credo di Tom Sawyer o di Huckaberry Finn quando si fingono morti e e con e con vengono prese vengono prese a cannonate il Mississippi per per tirare sui cadaveri e io penso sempre che il lavoro di scavo faccia a volte debba fare questo tipo di operazione qua appunto delle cannonate sulla superficie dell'acqua che tirano su quello che si era completamente dimenticato come come dici tu hai detto in più occasioni scrivi nel libro la presenza nera in Italia era un dato di fatto e lo era stato per secoli e e lo dimostrano l'opera d'arte che stavi citando e si è inabissata nella nostra memoria pubblica per una miriade di ragioni non ultima per il portato del rimosso coloniale che ovviamente ha gettato un'ombra terrificante sul sul rapporto Italia-Africa orientale Italia-Africa del nord e e arriverei a quella che sarebbe la mia terza e ultima domanda così lasciamo poi spazio per anche qualche commento che peraltro è collegata alla domanda di Carlotta Librieri che dice io vorrei chiedere ai jabba quali scrittori scrittici contemporanei si volge quando cercano a lettura un'idea interessante e che abbia molto da dire contribuire al discorso afro ma non sono magari anche l'inclusione e alla multiculturalità allora tema a me carissimo ai jabba carissimo che ho lasciato appunto per ultimo di questa nostra breve chiacchierata ma voglio dirlo molto chiaramente che questo è anche un romanzo politico nel senso più nobile della parola e nel senso più acceso della parola nel senso che cito dalle ultime pagine dice ho scritto questo libro a cavallo della storia perché la storia ci insegna che il monocolore non esiste e che ognuno di noi è fatto dalla somma dei suoi percorsi e dei percorsi di chi l'ha preceduto e generato e poi qua che i jabba dice conclude un'ideale trilogia e questo libro appunto fa due operazioni molto molto secche le abbiamo un po sfiorate adesso le dico così tu le puoi commentare se vuoi e da un altro appunto denuncia la ferocia della storia sui corpi come tu sollevano giustamente prima sui corpi fondamentalmente di chi non ha avuto diritto di cittadinanza nella storia appunto in particolare sui due grandi temi che hai accennato prima la tratta atlantica e il colonialismo ottocentesco e poi e poi quello che il suo il suo figlio feroce nel caso dell'italia dell'imperialismo fascista e ci sono due due brevi passaggi che vi vorrei leggere prima di dare la parola ai jabba riferendosi alla fanù scusami se prima l'ho pronunciata con l'accento sbagliato e qua è lei la che parla dice questo è il destino di chi arriva prima prima degli altri a fare la rivoluzione e poi eh verso verso la fine molto più avanti c'è un altro passaggio che mi ha colpito molto sempre sempre sulla fanù qua è la voce narrante che parla invece siamo nel passato eh quella sua lotta per emergere non la faceva per lei sola ma per tutti ogni volta che faceva un passo un passo in avanti sentiva che dietro di lei una moltitudine avanzava per cui c'è quest'idea appunto del passato sommerso a cui dare voce dare forza dare eh visibilità attraverso una vicenda archetipica che che ne che ne racchiude almeno altre due ma probabilmente eh molto di più ehm e dall'altro dall'altro al presente c'è ovviamente una consapevolezza molto più radicata nel nostro tempo anche una una un'amarezza che 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 questi anni ci ha ci ha investiti tutti quanti eh e la dico in due parole per non rubarti ulteriore tempo eh c'è una denuncia molto secca del di quello che che stiamo vivendo c'è del regime di di apartheid globale di fatto che che tema su cui tu insisti da tanto su cui insistiamo in tanti da tanto che che di fatto ha diviso il mondo in cittadini in serie A liberi di andare ovunque con i loro passaporti forti e in cittadini eh di serie B che che non possono sostanzialmente andare a nessuna parte ovviamente tutto questo discorso lo facciamo nella eh escludendo eh almeno se vuoi parlare ne parlane pure però la bolla coronavirus che che ha un po' sparigliato le carte allora per cui se se voglio di commentare questi questi diciamo due livelli di di politicità del tuo romanzo cioè quello di delle vite che hanno sono state in qualche modo precursore eh di 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 conquiste e delle e della battaglia che 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 c'è ancora da fare allora poi vorrò rispondere ho visto che stanno molto scrivendo magari risponderò e allora la per quanto riguarda degli autori prima ti rispondo su questo contemporane e gli autori contemporanei io devo dire che guardo molto al Brasile molto agli afroamericani in questo periodo no basti pensare a Colson Whitehead eh che ha vinto un doppio Pulitzer eh per un libro stupendo come la Ferrovia Sotterranea insomma eh ci sono tante persone che hanno molto molto da dirci insomma e questo questo è un bene di qualsiasi tipo di colore di qualsiasi tipo di 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 religione insomma no? Ehm invece per quanto riguarda la politica ehm ci sono vari temi politici in questo libro allora per me è anche politico banalmente mettere in scena la storia d'amore tra due neri perché in qualche in qualche modo è una cosa che non si vede mai e in generale l'amore e il corpo nero non si vede mai cioè io se voi pensate che l'amore tra un bianco e un nero in tv è avvenuto negli anni sessanta forse era star trek e poi non è che lo vediamo spesso cioè l'amore è un tema politico perché non viene messo in scena cioè il tuo corpo viene vestito sempre come corpo merce corpo che ehm crea capitale eh corpo da sfruttare ma non corpo da amare no? Quindi il fatto che al centro di questo questo libro c'è anche una storia d'amore e c'è l'amore in generale per me era importante. Poi l'altro tema politico è il viaggio. Il viaggio è fondamentale come tema politico perché non è che ho preso il Grand Tour a caso la cornice del Grand Tour diciamo del viaggio canonico in Italia il viaggio appunto di per aumentare la propria conoscenza del mondo attraverso i ruderi eccetera eccetera era però lo fa in questo caso la Fanu e quindi un corpo che non è è programmato per quel viaggio no? E quello spariglia le carte e diciamo che il suo viaggio è parallelo quasi speculare al viaggio della cugina di Leila perché Leila è un ponte tra il viaggio di la Fanu e il viaggio di sua cugina. Cugina che non conosce e Binti. Binti poi significa ragazza no? Non è un caso che ho scelto questo nome. Binti in arabo significa ragazza come se fosse la personificazione delle tante ragazze che fanno il viaggio dal Mediterraneo e che attraverso il deserto nel Mediterraneo fino appunto a Lampedusa a volte un viaggio che si interrompe a metà e come succede in qualche modo a tante a tante ragazze ancora oggi purtroppo un viaggio fatto di violenza e però io volevo anche mettere in scena la violenza del fatto che l'Europa l'Occidente in genere ad alcune persone ha dato la possibilità di viaggio ad altre no e altri devono dagli anni 80 questo però perché prima i miei parenti venivano senza barconi cioè tecnicamente i miei genitori sono venuti qui in aereo poi a un certo punto ho visto venire le persone che magari non conoscevo ma erano con lontani cugini con questo in questo modo allora è chiaro che c'è anche una una linea veramente la linea del colore tracciata sul viaggio chi può chi non può chiaro che il covid ha sparigliato le carte però in realtà non ha sparigliato i privilegi cioè i corpi soprattutto col covid lo vediamo come chi non aveva diritti ancora meno diritti e io voglio capire nel frattempo cosa diventerà il viaggio si sarà ancora più duro di quello che abbiamo visto adesso no perché noi abbiamo messo in mano ai trafficanti qualcosa di così prezioso come il viaggio poi attraverso l'ela e venti volevo anche far vedere i rapporti diasporici no come quelli della mia famiglia cioè io sono nata in italia io ho avuto anche la grande fortuna di vederla la somalia prima della guerra sono state tante volte ho abitato anche lì e ma moltissimi non hanno avuto nemmeno questa fortuna e e tecnicamente si formano dei rapporti a distanza no e ancora prima del covid il migra gli immigrati in genere sono erano molto diciamo allenati ai rapporti ai rapporti a distanza sei sempre legato a qualche tecnologia negli anni 80 ci mandavamo le audiocassette ce le registravamo e poi a un certo punto i telefoni sono diventati meno cari adesso ci possiamo anche guardare con skype o con con zoom no e però ecco questi aggeggi hanno hanno creato parentela cioè parenti lontani si conoscono grazie alle tecnologie e venti e lela sono due che si conoscono tramite le tecnologie si vogliono bene sanno che hanno questo legame di sangue sanno anche però che il privilegio le divide c'è l'era ecco cosciente che lei ha un privilegio che sua cugina non ha che ha il privilegio di viaggio quindi sì io volevo far vedere questo perché il motore iniziale di questo libro per me è il dolore di quello che avviene nel mediterraneo cioè io ogni volta che penso alla frontiera mi sento male e penso come noi essere umani non riusciamo a essere veramente umani con gli altri con il nostro prossimo e come stiamo distruggendo il pianeta perché poi i paesi di origine e i nostri paesi di origine sono paesi devastati dal punto di vista ambientale la somalia gli hanno versato rifiuti tossici di tutto di tutto di più quindi sì quindi per me la politica è nel corpo della delle queste donne ma è anche aggiungo solo questo nell'aver costruito un affresco di donne cioè io ho molta qua la fanù che poi tra parentesi possiamo pronunciarlo come ci pare perché è un nome inventato no perché è una una specie di calco è una specie di calco dell'autore di carmilla la fanù di carmilla no e quindi ho voluto un po giocare perché ci sono tanti rimandi letterari in questo questo libro però tecnicamente tecnicamente appunto non c'è solo la fanù ci sono anche le donne bianche e per me è stata la grande sfida perché tecnicamente dico io scherzando dico ho fatto appropriazione culturale no ho cercato di descrivere qualcuno che è completamente diverso da me americana wasp eh appunto dell'ottocento no bianca eh le donne appunto che attorniano che sono attorno alla fanù sono donne completamente diverse da lei alcune sanno messe male economicamente come l'izzi manson alcune invece sono molto ricche ma molto confuse no sono tipo bezzabam e canzi è uno dei personaggi che credo sono più soddisfatta di aver di aver creato perché è quel prototipo di donna che vuole aiutare gli altri per brillare se stessa vuole vuole lei mettersi sul piedistallo no e però alla fine fa anche lei un percorso cioè non è un personaggio negativo non ci sono così personaggi negativi sono personaggi confusi personaggi anche in crisi e fortemente in crisi personaggi che attraversano la storia alcuni imparano alcuni non imparano quindi in qualche modo ho voluto voluto anche con questo mettere politica no perché a volte noi parliamo sempre del del razzismo delle delle dei totalitarismi dei suprematisti però c'è tanto razzismo anche nel progressismo quindi ci dobbiamo lavorare su guarda guarda non non è venuta come dire un lancio per chiudere nel senso che credo di riuscire a tenere insieme le tre domande che ti sono arrivate quello che mi ha evocato nel senso che mi ha colpito tantissimo è la penultima pagina del libro che tu a un certo punto fai un escusazio non petita chiedendo a scrivi quindi se qualche afroamericano a prenderà in mano questo libro voglio carriere che non si tratta di professione di cultura ma della costruzione di un personaggio ponte eccetera eccetera e tra le domande c'è marina ferrari che ti chiede quanto ci è voluto a livello di tempo ricostruire nel dettaglio le ambientazioni e quali scelte si è trovata a fare appunto per per essere verosimile quello che dicevamo un po prima valeria ti fa la domanda che terrei per ultima anna maria pesco solido ti chiede dell'identità dice di genere se c'è un passaggio del libro che trovi che sintetizzi bene quel tema lì e valeria battilani chiede se sei a conoscenza di esperienze di studio a scuola per quanto riguarda la letteratura alforitaliana se conosci insegnanti impiegati su questo fronte e poi insomma la domanda la vedi io credo che questa mia sollecitazione queste tre domande abbiano in comune un tema gigante che è stato tra l'altro discusso qualche mese fa anche sulla lettura del corriere e che ovviamente negli stati uniti è al centro del dibattito da tempo in memore che appunto quello che tu hai nominato prima quello dell'appropriazione e ti lascio con una domanda che da parte mia anche una mezza affermazione io credo che personalmente che il tuo lavoro di questi anni sia preziosissimo e che in questo momento viviamo in un momento ponte a proposito di ponti in cui dobbiamo come tu tra l'altro invochi spesso dobbiamo veramente fare un salto di qualità in cui questi temi che abbiamo enucleato oggi rapidamente perché in una diretta i tempi sono un po più contingentati diventino davvero patrimonio di tutti gli studiosi divulgatori gli storici narratori e non e non e non siano più delle riserve indiane per riprendere l'altra metà di la fanù appunto in cui si viene facilmente accusati di appropriazione indebita perché un tema è vero che molto americano ma è vero che alleggia anche nei nostri luoghi fatto che le donne debbano scrivere di donne gli afrodiscendenti debbano scrivere di altri discendenti ti lascio con una come dire un tema spinoso in mano se vuoi darci una solicitazione di chiusura ok cercherò anche di non essere lunga allora quanto ci ho messo credo tre anni però tre anni in cui le persone vivono questo libro attraversato anche tanti dolori personali io ho perso mio padre e insomma poi oltretutto mio fratello ha avuto un tumore quindi non è stato facile però i libri ti aiutano cioè non soltanto quelli che leggiamo ma a volte anche quelli che scriviamo cioè a me cioè si sente che comunque c'è qualcosa anche di molto molto profondo molto mio in questo libro e forse anche per questo che ci tengo molto perché mi ha aiutato in un momento in cui pensavo proprio di non farcela quindi quei tre anni sono stati tre anni un po così e poi quanto per quanto riguarda l'appropriazione culturale a prima volevo dire del programma ci sono tanti professori di buona volontà in giro per l'italia professore professoresse e la letteratura afro italiana più a alleati come alleati professori e io poi le spezzo una lancia quest'anno ho anche curato un libro che si chiama future con giovani donne afro italiane insomma è stata una bella bella esperienza con l'editore fq e anche perché quello che manca in italia oggi è lo scouting cioè abbiamo avevamo in inizio anni 2000 un bel po di voci che però non hanno volevano continuare a scrivere molti e però gli editori non hanno voluto vi vedo più ecco e non vi hanno non hanno voluto pubblicarli nel tempo non hanno voluto coltivare e quindi invece spero in un'inversione di tendenza adesso non solo afro italiani ma persone con altra origine in genere perché questo può arricchire il nostro panorama culturale italiano persone di varia generazione quindi c'è bisogno di più voci per capire un'italia transculturale come quella di oggi e l'altro per questa cosa dell'appropriazione culturale volevo farvi vedere un libro questo qua è stato molto utile non so che si vede frederick douglas perché in tutto ciò io c'è portelli professor portelli che mi ha detto che era una disgraziata perché il frederick del romanzo assomiglia molto a frederick douglas però non lo è e però ecco questo libro mi ha molto aiutato si è una biografia si intitola appunto frederick douglas e l'autore blight spero che qualcuno lo traduca in italia perché è un libro grandioso e per quanto riguarda invece l'appropriazione culturale c'è stata una grossa polemica negli stati uniti e per un libro appunto american dirt che parlava c'era una donna appunto wasp che è bianca insomma che ha scritto di questi due migranti messicani il libro è stato considerato all'inizio voleva non venderlo come il libro per eccellenza sull'immigrazione questo ha fatto molto arrabbiare la comunità latina che dicevano guardate questo libro mediocre e tra parentesi lei parla di cose che non sa allora è un problema molto spinoso per me lo è perché da una parte nessuno può dirci cosa scrivere se io domani mi sveglio e scrivere come è successo di James James Baldwin ha scritto il libro con tutti i bianchi lui nero cioè si può fare non è quello il problema secondo me non è quello il problema il problema di un libro come american dirt secondo me è stato venderlo come il prodotto per eccellenza sull'immigrazione senza però introdurre nel mercato editoriale le altre voci che è quello per me il problema c'è quando un mercato editoriale non ascolta le voci che in realtà potrebbero raccontarti anche un'altra angolatura della della storia no quanto è molto difficile se sei una minoranza riuscire a pubblicare e riuscire a far circolare i tuoi libri ne so qualcosa io sono stata fortunata ma ho dovuto lottare cioè non è non è facile superare le barriere quindi io penso che abbiamo tutti la libertà di scrivere quello che ci pare ma sicuramente l'editoria questo è molto importante si deve aprire io non parlo solo dell'italia ma in generale se noi pensiamo che libri per ragazzi non hanno io mi occupo per internazionale di libri per ragazzi non hanno diversità culturale come personaggi abbiamo tutti personaggi monocolore no abbiamo bisogno un po di più voci più immagini più personaggi perché questo ci arricchisce come società e quindi c'è bisogno di uno sforzo dell'editoria non so se ti ho risposto ma mi hai sicuramente ovviamente ho premesso che si trattava di un tema gigante per cui secondo me si potrebbe poi lanciare l'idea di riprenderlo perché perché è veramente centrale credo che dimostri lo stato di salute di una società anche perché faccio l'avvocato del diavolo l'editoria come come sappiamo benissimo è è un settore composito che non si muove in maniera uniforme per cui come dire ci auspicchiamo un cambiamento di sistema ma poi i libri li facciamo noi singoli con i nostri editori e per cui cambiamento di sistema non accade come per magia c'è veramente come diciamo spesso più un cambiamento culturale che deve essere quasi deve precedere poi il cambiamento editoriale no esatto però a volte il dibattito rischia di incastrarsi di diventare il classico gatto che si morde la coda perché sembrano più che altro dei dei veti incrociati per cui se io mi mettessi a scrivere un libro faccio un esempio stupido un libro di donne mi sentirei addosso centomila occhi in più che a scrivere un libro di uomini cioè giusto che sia così Flaubert l'ha fatto di una donna no io penso anche a Colson Whitehead cioè Colson Whitehead nella ferrovia sotterranea il suo personaggio è una donna quindi alla fine no io penso che nella letteratura grazie a Dio abbiamo libertà e questo è proprio grazie al nostro mestiere però il problema grosso è poi il mercato no il mercato editoriale io mi auspico che un giorno anche chi lavora dietro no gli editor possono essere transculturali cioè possono venire da ovunque e possono avere le università cioè noi abbiamo bisogno di essere mescolati questo è il mio credo diciamo mescoliamoci che è l'unica cosa che adesso con le mascherine ma prima o poi senza mascherine dai ci arriveremo dai e con questo invito possiamo chiudere peraltro una cosa che ho dimenticato di dire il tuo libro nella prima metà insomma nella parte americana mi ha ricordato moltissimo la ferrovia sotterranea ed è un gran complimento perché è un gran libro che l'ho letto dopo però grazie a Dio ah sì ah ok ho evitato di leggere tutti i libri sì che sapevi che sarebbero influenzati anche io faccio così ho letto però ho letto moltissimo Hawthorne io penso che quello che mi ha influenzato di più alla fine è stato Hawthorne cioè che poi questo Marble Faunel io ve lo consiglio se volete fare una lettura storica ma non è un romanzo cioè perché lui proprio descrive anche i capitelli corinzi cioè è molto dettagliato però mi ha aiutato e l'ultima cosa mi ha aiutato Roma cioè la bellezza di Roma che devo dire che durante il lockdown è la cosa che mi ha mancata di più io faccio lunghe passeggiate e non vedere la mia città è stato è stata dura no e ognuno di noi deve riscoprire le proprie città perché viviamo in un paese molto bello e ce lo scordiamo incasinato a volte anche un po crudele però molto bello ecco allora eh guarda mi hai fatto l'assist per chiudere al posto di chiudere con le mie parole inutili lo farò con le tue citando veramente eh due brandelli delle ultime righe del libro ehm e qua è Giaba che scrive torniamo questa la mia farghiera costiere una città riferendosi a Roma ma direi un paese in cui si può vivere felice vedere rispettati i propri diritti e l'ultima riga è e grazie Roma so che ritornerai a splendere grazie a tutti e a tutti per averci seguiti e buona lettura a chi non l'ha fatto la linea del colore di Giaba Scego a buon piano in 2020 arrivederci ciao grazie a tutti Grazie a tutti